Oh! Flyer! 2 terra qua? 3 terra qua! Questo lo devi farlo Tu muori? 2 terra qua! A terra un altro! A terra! Mi impagno! A terra uno! Ok 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 ti ho iniziato! Ok 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 ti ho iniziato! Prima terra, lascia il bombardamento Brian Lee Nel secondo ping a sinistra A terra due! Lancia! Lancia subito! Lo hai lanciato! Lo hai lanciato? Al ping grosso! A terra! A terra! A terra! C'era uno al volo! Clip padre ragazzi! Non è vero! Mi sporo di coltello attraverso il muro! Ehm... 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 Dietro la... Ehm... 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 Dov'è? 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 No! Secondo no! Secondo no! Ho vinto! Dov'è? Dov'è? Basiatemi... I... Cazzo! è di shot 1 è di shot in giro io l'importante è prendere la palla non concluderci qualcosa questa è stata bella questa che giocata da pro ragazzi non vedete il controllo di palla chiudiamo questo video ragazzi con uno screen del canale twitch che vedete app andatemi a seguire grazie a tutti per la visione se vi è piaciuto il video lasciate un like un commento e iscrivetevi al canale al prossimo video grazie a tutti